Ciao, sono Andrea. Queste sono le mie scarpe fluo e questi sono i miei capelli fluo. Questa è la mia colazione preferita. Questa è la mia grande famiglia, io con due delle mie sorelle ed io quando avevo quattro anni. Questo è il mezzo con cui mi muovo tutti i giorni. Questa era la mia bici, qui è dove tenevo la mia bici, prima che quel pe**o di merda me la rubasse. Questa è la mia ragazza e questo è un suo primo piano. Questo è il mio buongiorno, ma purtroppo non si è sempre così in forma la mattina. Così è come mi vede l'acqua, così è come la vedo io. Queste sono le mie quattro ragazze, ma solo lei riesce ancora a sopportare. Questi sono i miei baffi antiquati. Questo è il mio lavoro, la creatività al fine di uno scopo. Questo è quello che sento di essere e questo sono io. Ecco! Così e questo è il mio lavoro. Ho! 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 Io comunque sono!